Anche con l'accento ed è don합니다 Aspetta 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 aspettas si sarebbe commosso Stai l'aero pronto ok, attenzione, via dal tank via dal quadrato chi è? linda, via ok, barriera ottimo gigantone, tutto sul gigantone perfetto, ci spostiamo a sinistra aoe sui piccoletti questi qua ok, quello grosso 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 taschio ce l'ha l'hitter da fare si ce l'ha l'hitter e portalo qua che così facciamo poi anche l'hitter anzi, interrompetelo l'hitter, basta ok evitare barriera c'è barriera chieda alla luna chieda alla luna chieda alla luna ok, penso che possiamo rimanere qua e fare il boss e poi ok, posso fare la luna e poi ed è il boss si 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 ridico di questi il Grazie a tutti. Grazie a tutti.